Kate Middleton, malattia, trapelate nuove informazioni. La recente operazione addominale subita da Kate Middleton, principessa del Galles, il 16 gennaio 2024, e il suo successivo ricovero alla London Clinic hanno suscitato notevole interesse e preoccupazione. Sebbene Kensington Palace abbia immediatamente escluso il cancro come causa, l'assenza di informazioni dettagliate ha alimentato speculazioni e interrogativi sulla natura della malattia che ha richiesto l'intervento. La discrezione con cui è stata trattata la questione ha destato curiosità, soprattutto considerando l'attenzione mediatica che solitamente circonda la famiglia reale britannica. La principessa del Galles ha dovuto affrontare un periodo di convalescenza che l'ha tenuta lontana dagli impegni pubblici, protraendosi fino alla stagione pasquale. Questo, unito ai problemi di salute di Re Carlo, ha creato una situazione di delicato equilibrio per la corona, lasciando il pubblico in cerca di risposte chiare riguardo le condizioni di salute dei suoi membri. Un elemento che ha alimentato ulteriori congetture è l'ingresso di Ian Patrick come nuovo segretario privato del principe William. L'affiliazione di Patrick con Crohn S. Ecolitis UK, un'organizzazione dedicata alle malattie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, ha portato ad ipotizzare che la salute di Kate potesse essere legata a queste condizioni. Il morbo di Crohn, in particolare, è noto per le sue complicazioni che possono rendere necessario un intervento chirurgico, talvolta esteso fino all'inserimento di una sacca intestinale, scenario che potrebbe spiegare l'assenza prolungata della principessa dalla vita pubblica. Nonostante queste speculazioni, non ci sono state conferme ufficiali sulle condizioni di salute di Kate Middleton. La scelta di mantenere privati i dettagli medici riflette un desiderio di rispetto per la privacy della principessa e della sua famiglia, sebbene alimenti al contempo curiosità e speculazioni da parte di pubblico e media. Questa situazione sottolinea la tensione tra il diritto alla privacy dei membri della famiglia reale e l'interesse pubblico verso la loro vita e salute. La salute dei reali britannici rimane un argomento di grande fascino e preoccupazione per il pubblico, evidenziando quanto la vita dei membri della corona sia intrinsecamente legata all'interesse nazionale e internazionale. La gestione delle informazioni riguardanti la loro salute pone interrogativi sul bilanciamento tra privacy, personale e trasparenza verso il pubblico che li segue con affetto e interesse. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!